Fedevo pensato un'altra cosa di quelle pazze su minecraft Questo oggi dobbiamo giocare a minecraft senza mai rompere i blocchi Ok e come vogliamo fare Steph? Perché una soluzione ci deve pure essere Certo abbiamo tre bellissimi villager qua, Leo, Pino e Gino Che ci daranno dei materiali in cambio di altri materiali Ad esempio con dei fiori potresti guadagnarti un pezzo di legno Però diciamo che non sarà proprio semplice perché sono abbastanza cari questi qua Sto vedendo, cioè sono molto cari Steph, cioè sono dei villageri usurpatori questi Però ci dobbiamo raggiare Fede È il momento Fede, ovviamente da che cosa dobbiamo partire? Abbiamo bisogno di una crafting table, quindi abbiamo bisogno di legna Se parli con Leo vedrai che per fare un blocco di legna e quindi quattro pezzi e quindi una crafting table Abbiamo bisogno di cinque fiori rossi e di cinque fiori bianchi Dovrebbero essere comunque in zona, non credo che sia difficile Guarda qua ci sono Fede Ho visto quelli bianchi Fede, corri poco Ah Ok Come corri poco? Beh sai, arrivare a fare una fornace con il coal per poter cucinarci della carne non è proprio semplice Per favore di non sprecare troppo la fame Uno Grazie Due Allora, uno, due Ma stai partecipando anche tu? Eh sì Ah Ma aspetta, aspetta, aspetta Io non sto capendo nulla Non era una sfida che dovevo fare io e che tu mi dovevi presentare? No E cosa ci fai tu qua allora? Gioco insieme a te Perché? Perché siamo amici Ma non è vero? Sì No Siamo migliori amici dal 2001 Neanche ci conoscevamo nel 2001 Lo so Quanti fiori hai comunque? Quattro Guarda cinque Io ho già preso tre di questi rossi Ci servono quelli bianchi Fede che sono qua Li prendo io, basta Stai facendo troppo tu, basta Ok, sto fermo Ok, sto fermo Ma che malissimo Ho metà polletto Ho metà polletto Ieri in questa zona Ora La spada Forse però ce ne abbiamo Perché col villaggio comunque non ce n'è poco Allora Fede facciamo così Quindi mi stai dicendo di andare a rubare? No, vai Sì Ah, ok Sì, vai a rubare Io vado a cercare quei fiori strani Ma mi sembra anche di aver venisi Fede non correre Non sto correndo Ero così Stef Ero copacciata Visto che stai rubando il grano Qualche carotina Ci sta eh Ma aspetta Questo è per una giusta causa L'altro è proprio rubare per rubare Stef Dici che è troppo? Eh Dai, dai, dai Ok, ok, ok Allora non prendere, non prendere Hai ragione, hai ragione, hai ragione Allora sono tre, quattro e cinque E cosa stavo andando a prendere? Gli stick, giusto? Quindi me ne servono due Quindi dieci fiori E qua dieci non ci sono Sai che faccio Stef? Stef, siccome sono una brava persona Ripianto anche i simili che mi avanzano Brava Hai visto? Brava, brava, brava E tu sì che sei brava Sono una brava persona Quindi non sto rovinando del tutto Ok, ok, bravissima Allora, ti volevo informare Io sono a sette dei dieci fiori Che mi servono per i due stick Per fare le due spade Non ce ne erano più nel posto dove li ho presi Ma per fortuna Andando un po' più avanti Ne ho trovato altri Quindi è tutto a posto Allora, io sono solo a otto di grano Perché sai cos'è? Non è che ce n'è così tanto cresciuto È molto non è ancora maturo Lo so, lo so Quindi non è così semplice Infatti sto sperando che venti ci siano Perché altrimenti ci trocca aspettare Che cresca il grano Diciamo che non è proprio la mia ambizione massima Vabbè, sono a sedici Mi manca ancora una Ah, sì, dai Ci sono ancora molte piantagioni da fare Quindi se ce la dovrei fare Ce la facciamo? Tranquillamente La accendiamo? Sì Meno male Ok, allora Io ne ho preso venti di quei fiori Dato che c'ero Così posso farmi dare ancora più stick E nel caso in cui ci servirà una spada migliore O altre cose durante questa sfida Saremo pronti a farle Salve Leo Mi servirebbero dei bastoncini Me ne dà quattro Dato che ero pieno di fiori E sono a posto Ecco Stef Ne ho addirittura ventisei Ok, devi parlare sempre con Leo Fatti dare Cinque di cobblestone Dopodiché lanciamele così Inizio a creare le nostre belle spadine Fere Nella tua mano ho notato qualcosa che non ci dovrebbe essere Cosa? I semi? No Te l'ho detto che mi stavano avanti No, ho visto qualcosa di arancione Non era per una giusta causa che tu non le avresti prese quelle carotine Sono solo sei, vai Solo? Che faccio? Ci potrebbero sfamare metà villaggio così Tieni, te ne do una così ti stai zitto Va bene Solo una Lo accetto Non rompere Allora Facciamo così Facciamo così E abbiamo le nostre bellissime spade T'ho una spada Fere? Grazie Ok Allora, 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 allora Ti volevo far vedere Abbiamo guardato Leo Abbiamo guardato Gino Non ti sei mai chiesta che cosa ci può dare Pino? Ah sì, io l'ho già guardato Ok E ti sei chiesta come mai ci dà Eh no, no, no Quello ovviamente non lo so Perché ci dà delle uova di creeper Esatto Ti spiego il perché? Perché? Perché se tu evochi un creeper Ci stai vicino Ok E lui esplode Vengono distrutti dei blocchi Che tu puoi raccogliere Ma che tu non hai distrutto Ah beh, sì E questa è una tattica però E hai distrutti lui Ti stanno cadendo nelle mani Esatto Sei com'è Quindi se noi riusciamo a procurarci 20 di seeds Per farci dare del coal Possiamo andare a cucinare la carne Che possiamo farci Con le spade che abbiamo fatto Ammazzando qualche animalozzo Farci dare dei creeper Far esplodere della terra Della pietra Quello che ci serve Scusami Mi dispiace interromperi Però dirlo prima E non avrei rimpiantato nulla Infatti io non te l'ho detto Il proposito Me ne sono avanzati 13 La buonazione te la dovevi fare Ah, mi hai già 13? Eh beh, sì Mi sono avanzati Ne andava tanto Scusa, eh Visto che ci siamo Spacchiamo un attimo qua in zona E vediamo se riusciamo ad arrivare a 20 Vai Comunque non vorrei dire Ma solo te è venuta fame Quindi vuol dire che stai correndo Troppo in giro, Fer Eh, forse c'è troppo caldo oggi Ma che caldo Si sta benissimo 14, 15 Io ne ho 4 Quindi ce ne manca uno Eh, sì Io ne ho 6 Ok, vai Ne ho 8 addirittura Allora, perfetto, perfetto, perfetto Allora, te li do a te E prendi tu il coal Sì Ok E tu dirai Steph Ma noi non abbiamo una fornace Ovviamente Ok Ma Steph ti dice Fere, nel villaggio c'è un fabbro Ok E il fabbro di solito ha le fornaci Ok Quindi Ma lo devi dire con questa voce? Sì Ok Noi adesso dobbiamo ammazzare animali E se tu non vuoi ammazzare animali Le ammazza Steph Vai, ammazzali tu Arrangiati Ah, salve i maiali Che bello incontrarvi qua Neanche devo correre Così non spreco neanche troppo cibo Siete pronti? Uno Due Non correre Non correre Che poi mi stanco Sono veloci Maledete Poi c'è l'erbaccia qua Ok, una bistecca Ce ne servono 3 Per avere un creeper Giusto? Sì, esatto Però le dobbiamo cuocere Ok Spero che uno di qua la basti Per cuocere 3 bistecche Sinceramente Non ne ho idea Vabbè Ce li hai, giusto? Ne ho 5 Quindi Andiamo a 6 Così possiamo avere 2 creeper Eh, sì Sì, sì Ormai Anche se ripeto Non so Spero basterà Ne abbiamo solo uno di carbone Siamo molto poveri col carbone Lo so Lo so Però siamo a 6 carnezze di Carneze Carneze Che è una nuova parola 6 carni di maiale Come hai fatto uscirti fuori i carnezze? Scusami Non lo so È una nuova parola Sì, ma come l'hai pensata? Cos'è capitato nel tuo cervello Per farti dire carnezze? Credo carezze Ma non so perché ho pensato alle carezze Mentre stavi uscitando dei maiali Non lo so Lo sai che il mio cervello funziona in modi particolari Fere, lo hai sempre visto Fere, mi sa che l'hai superato Era questo Sì Guarda che mi dici dopo il pozzo È a fianco al pozzo No, alla destra del pozzo Beh, a fianco E se ci serve abbiamo pure della lava Non ci serve a nulla Buttati dentro Così almeno No, non fa Lo so Aia Mi hai fatto malissimo Ecco, sei meritato Ok Allora Metti il carbone Fatto in quella di sotto Ok, vediamo quanti riusciamo a cuocerne con solo uno Credo poche Mmm Sicuramente non mi ricordo quanto A quanto corrisponde ma Non lo so Io sto solo pensando in questo momento Che non ho voglia di prendere altri 20 semini Quindi Eh, neanche io Sto sperando No, sì, ma tre sembra che li faccia Perché se vedi il fuoco che si esaurisce Siamo ancora messi bene Sì, dai Tre le facciamo Dai, sì Allora posto Ma sai che forse anche tu te sei Vediamo, vediamo Andiamo Fere Ci siamo Guarda, guarda Fai silenzio, fai silenzio Lo vedi lo zombie Lo zombie l'ho visto Andiamo, ascolta Andiamo assieme Così magari in due riusciamo sempre a frotteggiare i mostri che ci capitano Sì, ma Uh, uh, uh Fere ne sta sparando molta gente Eh, sì, molta, molta, molta Ricordati sempre Vicino al villaggio Siamo abbastanza tranquilli Esatto Quindi secondo me non ci dobbiamo allontanare troppo Non dobbiamo fare i pazzi Capisci? Lo facciamo esplodere un creeper Sì Vieni qua Vieni, vieni, vieni Beh, sì Dai, bravo Ok Non è esploso Esplodi Oh, ha toccato il timing Ottimo Ho colpito anche lo zombie È un po' basso Perfetto, è morto Il ragno, il ragno Che ci serve? Fare da dietro uno zombie Ok, perfetto Ci sono Ok Ok Dai, così Se ce la gestiamo piano piano ce la possiamo fare, secondo me Eh, sì, ma non ti ho detto una cosa Cosa? Che è l'unico modo per far finire la notte Ok Che è anche l'unico modo per finire questa sfida È riuscire a craftarci dei letti Quindi dovremmo droppare un sacco di fili per dei ragni Sì, sì Proprio così Me ne ha dato uno quel ragno Lo so Lo so Ci metteremo un sacco Cioè, mi stai dicendo che quindi hai bloccato il mondo sulla notte Esatto Perché hai fatto questa cosa, Steph? Mi sembrava divertente, Fere Non lo è No? Ok, andiamo Non c'è uno zombie alle tue spalle, tranquillo Eh, l'ho già visto Non sei simpatica, tranquilla Volevo farti uccidere, guarda Fere, se mi colpisci tu è un problema Vado a fare il ragno Ok Allora, fatti di affari tu Io combatto per me Tu combatti per te Ciao Cosa ha droppato? Eh, uno di questi Lo spider eye E purtroppo non mi ha dato dei filetti Filetto Ok Se ricordo bene ogni tre filetti abbiamo un blocco di lana Ok E di conseguenza nove filetti Mi schede sì che sono odiosi Sto cercando di ucciderli Ti do una mano Perché nonostante non servono Però è bastissima No, in realtà ci servono Perché col bone possiamo farci dare la cobblestone Ok Mangia, 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 mangia Abbiamo quelle tre bistecche Tanto i creeper Secondo me E anche le mie carote Non ci servono troppo Anzi, ne troviamo in giro Quindi perché pagarli Ciao maialino Guarda che se desti qua ti ammazzo Perché abbiamo fame Beh, ti la lascio di pace Fere Ok, ok Ok, ho cercato di farlo esplodere Su quello zombie Così esatto Non ci fa troppo danno Ok Ok Dai, ci stiamo gestendo abbastanza bene Sì, abbastanza Allora, continuo a prendere la terra Non so se ci può servire a qualcosa Però comunque ce l'abbiamo Se vuoi farti una casetta di terra La possiamo fare Bello, sì E magari ti vuoi riposare un attimo È il mio sogno vivere la terra Capisci? Beh, è un bel sogno Un bel sogno Hai trovato altro? No, non mi stanno dando nulla Ti dico la verità Anche a me Anche la carne marcia Non ci stanno dando niente Che strano I zombie al momento sono i più tirchi Che strano E siccome ci darebbero 64 di legna Con 5-10 di carne marcia Non ricordo Farebbe comodo Che già droppassero Porca miseria Vieni qua zombie Vieni qua che ti spacco Ti spacco in due Guarda, uno Due Creeper ti ho visto Creeper ti ho visto Ho detto Creeper Ho detto che Ti ho visto Vai via Dai che c'è la carne marcia Non esplodere Ok Ok, l'abbiamo messo in acqua Perfetto Lì lui sta tranquillo Sta per esplodere Davvero? Sì Sono zombie villager Oh mio Dio Pure Che brutto che sei Ci manca solo quello Ok, un po' di carne marcia L'ho fatta Sono tre affaire E ti arriva un sacco di gente Eh, lo so Li sto uccidendo Ok Ok Ok, vi prego Allora io ho quattro string Aspetta Ok Ok Posso fare un letto Steph Mi dai dalla legna Perché ho bisogno Della legna Io ho appena chiuso La porta Con gente che mi Massacrava le botte Hai la legna tu? Sì Ok, mi serve la legna Ok Bene Se riesci a darmi la legna Posso almeno fare un letto Ma con un letto Basta e avanza Ci mettiamo a dormire E abbiamo risolto Eh, ma ne basta uno Sì Ecco E allora vieni che facciamo sto accidente di letto Vorrei Vorrei Ma abbiamo gli scheletri fuori Dalle abitazioni Io te l'ho detto che non fa stare nelle abitazioni Perché ti ci sei messo dentro? Perché mi stavano Tipo Cioè dando dieci mostri Ok Io lo odio Dov'è? Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Ti sto venendo da te Sono D'Agino, Pino, Leo e Tritino Ok, vieni, vieni, vieni Ok Dammi la legna Tieni Ok, basta Te l'ho lanciata tutta la fine Basta, basta Allora, tienile a bada Ok Perché altrimenti non ce la faccio Ti difendo Ti difendo Ci penso io Ci penso io Dove siete? Vieni qua Vieni e sfidami Che bello, che bello, che bello Sei pronto, Steph? Due, tre Si devi piazzarlo dentro il villaggio Ovviamente dentro Che problema hai? Se sei vicino ai mob Non puoi dormire Ma io volevo dormire sotto le stelle Sì, ma se sei vicino ai mob Non ti fa dormire il gioco Ma, 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 ma Stef, ho detto Voglio dormire lì perché Ti ammazzo Te lo giuro Allora Sto pensando Non pensare, non pensare Agiamo, Stef, agiamo Sì, ma siamo troppo vicini a mob Ovunque così Te l'ho detto Non fa entrare nessuna casa Seguimi Mi stai seguendo? Sì, sì, sono dietro di te Ok Ho un'idea Ci senti a te, guarda Ho un'idea, Fere Questa è geniale Ma che un'idea Questa è un'idea geniale Questa è proprio La cosa finale Guarda E poi critica me Poi critica me Cioè, davvero Dove vuoi andare a dormire, Stef? Abbiamo demolito il villaggio Dei poveri villaggieri E tu dove te ne stai andando? Sto andando lontano dai mob Così possiamo dormire Eh? Basta, basta Dormi Ok Secondo me basta Ma posso piazzare il letto, secondo te? Oh, suppongo di sì Aspetta che mi recupero la vita Che ho tipo un cuore e mezzo Ok Sì, funziona Ti meriti di annegare in questo momento Blu Tu hai inventato questo video Tu guarda Te ne prendi le conseguenze, Stef Blu Sto accettando la morte È stato È stato faticosissimo Mi sento ancora stanca Cioè, non ne posso più di questa nottata, Stef Lo so Però è stato divertente Ammettilo No, non l'è stato Non ti sei divertita? Abbiamo distrutto il villaggio Io starei qua Lascia dei perdere È stato faticoso Vivere senza rompere i blocchi È stato faticoso La notte infinita È stata una doppia tortura Ma mi sono divertito Quindi io sono soddisfatto L'importante è quello Sto che almeno tu ti sei divertito Ragazzi Lasciateci un like È stata la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerarli Di iscrivervi Per non perdervi gli altri bisogni Ciao Alla prossima Ciao